Castello dell'Ovo Castello dell'Ovo è un club Napoli Castello dell'Ovo quindi diciamo per noi la denominazione del nostro club è ispirata al nostro castello e perché in Italia abbiamo diversi club ispirati ai castelli delle loro città abbiamo pensato di riunirli tutti i castelli rappresentano un po' le fortezze di una città sono quelle che tramandano un po' quella che è la memoria storica delle nostre città e noi siamo molto legati a questo castello così come lo sono le amiche che vengono da Sassari da Sassari quelle che vengono da Torino da città di Castello quindi da Roma, da Castelli Romani da Castellammare di Stambia siamo tutti club denominati Castello perché siamo molto legati al nostro territorio e ai simboli del nostro tutto questo è nato perché noi in questi giorni compiamo cinque anni nel senso che c'è stata data la carta c'è stata concessa la carta dall'International Interwill proprio in questi giorni e quindi per festeggiare per festeggiarci abbiamo avuto il piacere di avere intorno tutte le castellane dei castelli di Toria